Oggi al Salone del Libro abbiamo affrontato un tema molto importante, abbiamo parlato del valore dell'acqua. Credo sia evidente a tutti, anche alla luce dell'emergenza che ahimè è passata ma che ancora è profondamente viva in tutte le sue conseguenze, della necessità di affrontare in maniera urgente questo tema e capire che oggi la transizione ecologica non può che passare da misure pronte, veloci, sostanziali per quel che riguarda la gestione delle risorse idriche. Oggi abbiamo presentato questo libro, un libro interessante, fatto da Cespi, riporta molti contributi e credo che anche sulla scala locale ci deve insegnare che mentre oggi stiamo parlando di emergenze legate allo vivioni, per paradosso tra pochi mesi saremo di nuovo a parlare di siccità. Quindi è un tema che richiede una pianificazione e dalla parte politica richiede di mettere in atto misure concrete. Grazie a tutti.